buongiorno a tutti allora oggi è il compleanno del cipollino ciao cipollini ciao 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 melaciula 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 bestia mai fatto un male pazzesco mai fatto un male pazzesco che dolore che dolore che dolore avrete capito che si tratta di massimo boldi e ignobilmente ho provato a imitarlo e quindi ho qui un po di veline dei suoi telegiornali quando faceva ma cipollino 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 ciao ciao quindi partiamo con la prima notizia tartaro una ridente cittadina che sta tra carie e placca un giovane ortopedico in insomma uno dei tanti che curano l'otto stando in piedi tale dario balda bimbo bambo dopo aver scoperto che gli abitanti di bergamo si chiamavano berga maschi e berga femmine bestia che stupido che stupido che stupido è stato arrestato come mai è stato arrestato andiamo a vedere perché è stato afflustato bestia 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 è stato accusato è stato arrestato da una partera della polizia nella polizia no della polizia però era domesticata era domesticata insomma obbedientissima diceva mettiti lì mettiti là mettiti su mettiti giù mettiti qui mettiti qui vai a prenderlo ecco ecco vai a prenderlo bravissima ubbidiente ma vediamo il motivo dell'arresto bestia che roba bestia il bebo bamba ha commesso un grosso errore stava servendo un'alessandra a silva nella sua gelateria dal nome esotico si fa per dire il sorbetto dove lo metto ha pronunciato la seguente frase il ministro che non dico non è piccino picciò piccino è solo un puffo blu ed è stato condannato a cinque anni bestia che male che dolore che dolore mezz'eccole da tutto il mondo scherzo di carnevale in russia la città di mosca è volata via ho fatto la battuta ho fatto la battuta ho fatto la torniamo a fare le persone serie si fa per dire e diamo notizie serie l'otto marzo scorso festa della donna e in sicilia hanno spesseggiato sparando tre colpi di lupara a casaccio purtroppo hanno colpito casaccio ma mi informano dalla regia che comunque casaccio non era in pericolo di vita e sta già benissimo dopo quattro mesi aspettate scusate pronta regia regia mi confermate tutto bene tutto bene va bene va bene va bene vi ho colpito e ostacchio quello che sta tra incudine e martelle ma ciao bene bene tutto bene quello che finisce bene andiamo avanti le cantante al dente cioè la cantante giusta amanda lir avrebbe dichiarato a lei non interessa la festa della donna perché la sua festa è il 19 marzo festa del papà ho fatto la battuta faccio la battuta bestia che battuta bestia 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 il giornalista gianni minà famoso per i suoi capelli aglio olio e peperoncino beato lui io c'ho i capelli da ginocchio con tanta voglia di crescere ha approfittato della festa della donna per fare la festa ad una donna suo cugina suo cugino non ha capito perché è completamente sordo era completamente sordo ma anche allora lo era non avendo capito ha fatto la festa la nonna ha fatto la festa la bestia ha fatto la festa la nonna per la vecchina è stato un giorno gaio e pensate che dopo tre giorni era ancora lì a cantare ancora ancora bene 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 ma ciao ma ciao con questa battutona vi saluto il buon ma ciao cipollino vi saluta augurissimi al cipollino chiedo venia per averlo ignobili per averlo ignobili per averlo ignobili per averlo ignobilmente imitato col suo bestia ma fatto male pazzesco e niente fatemi sapere se vi è piaciuta questa parodia del buon cipollino o se a me sono stato ignobile e quindi mi bocciate vabbè accetto perché come dico sempre lui è lassù sull'Everest io sono sempre il Montestella detto questo ci vediamo ai prossimi video ciao cipollini ciao cipollini ciao cipollini